Ciao a tutti siamo qua con Giacomino quindi partiamo subito con le domande toste preparazione atletica, preparazione mentale vi stanno facendo sudare a manetta ti aspettavi tutto questo soprattutto come le stai affrontando? non mi aspetta tutta questa preparazione in vista di questo mondiale invece comunque ho visto parecchio interessante sotto tutti gli aspetti quindi divertimento ma anche lavoro soda alla fine avete raggiunto questo obiettivo e vi stanno massacrando ancora per le grandi aspettative quali sono le tue aspettative? le aspettative cerchiamo di vincere anche quest'anno e niente, questi raduni ci impegneremo per raggiungere questo obiettivo obiettivo che già in parte posso dire è raggiunto arrivando fino a qua perché ovviamente è una grande soddisfazione è il tuo primo mondiale o hai già partecipato ad altri? abbiamo fatto anche altri sì sì comunque abbiamo fatto anche altri quindi hai visto anche la differenza tra quello che era prima tra quello che è stato costruito piano piano fino ad arrivare a questo da quanto tempo fai agiliti e chi sono i tuoi cani? allora dal 2012 i miei cani sono in nazionale con Nala una piccolina ammeticcia depinger e un border hook quindi oserei dire tripla soddisfazione perché continui ad arrivare così in città come la stai vivendo quindi queste giornate? pesanti o puntate sul divertimento? perché dal sorriso mi sa che non ci si annoia sì sì ci divertiamo parecchio la si lavora però ci si diverte anche quindi grande aspettative sotto tutti i punti di vista sì sì perfetto in bocca al lupo e complimenti per tutto grazie grazie ciao capitano Uncino prova prova